Sofia Janemchuk è riuscita a realizzare il nuovo record italiano di maratona con il tempo di 2 ore 23 minuti e 16 secondi, quindi 28 secondi in meno rispetto a quanto aveva fatto Valeria Straneo nel 2012 a Rotterdam. Il tempo nella maratona di Sofia Janemchuk e nella maratona di Valencia non stupisce più di tanto perché si tratta di un percorso veloce ma soprattutto lei già questa primavera era arrivata alle soglie delle 2 ore 24, quindi pareva solo questione di tempo della gara giusta per riuscire ad abbattere il record italiano. Però magari molti di voi non hanno la più pallida idea di quanto sia decente questo tempo, pensate che a inizio dicembre 2023 questo tempo è il 91esimo nella graduatoria stagionale internazionale, però rimanendo un po' più vicini a casa in chiave europea questo è il settimo miglior tempo del 2023, dove tra l'altro al nono posto c'è un'altra italiana, cioè Giovanna Epis che anche lei in primavera era arrivata soltanto a 2 secondi dal record italiano, o meglio quello che era il record italiano. E nella lista all time, cioè quella di tutti i tempi, Sofia Janemchuk si colloca al 23esimo posto a livello europeo, dove tra l'altro quest'anno è stato proprio realizzato il record europeo a inizio ottobre grazie a Sifan Hassan, atleta olandese, che ha corso in 2 ore 13 minuti e 44 secondi, secondo miglior tempo della storia mondiale, dietro soltanto al nuovo record mondiale femminile di Tix Assefa, atleta etiope, che ha corso nell'incredibile tempo di 2 ore 11 minuti e 54 secondi. Comunque la situazione italiana non è delle più rose, perché va bene abbiamo due super atlete, ovvero la Jaremchuk e la Epis, però dietro di loro non c'è un movimento solido, non ci sono atlete medio forti. Perché pensate che in graduatoria all time italiana, tra le prime 50 posizioni, escluse ovviamente le due già citate adesso, negli ultimi tre anni c'è stato un solo inserimento, tra l'altro nelle posizioni oltre la quarantesima, considerando poi che attualmente in questi anni tutte le graduatorie all time di ogni livello, quindi internazionali, continentali e anche delle singole nazioni, stanno venendo stravolte completamente con molteplici inserimenti. Mentre noi in Italia abbiamo avuto soltanto tre inserimenti in top 50, che è pochissimo, considerando appunto la situazione internazionale. E in più, sempre escludendo le nostre due punti di diamante, non c'è stata nessuna atleta italiana sotto le 2 ore 30 negli ultimi tre anni. E anzi, tra le prime due del nostro movimento e la terza, passano oltre 10 minuti, che è veramente tanto. Vuol dire che il livello medio in Italia non è altissimo, anzi, è leggermente basso. E per quello dico che nonostante il record italiano, nonostante aver sfiorato in primavera Giovanna Epis il record italiano, la situazione della specialità in totale, in generale, non è messa bene in Italia. Poi si presume che la situazione migliorerà nei prossimi anni, perché si continuano ad avere notizie, nell'ultimo periodo, di atleti che si migliorano in chiave italiana, che esordiscono nella maratona con ottimi risultati. E quindi speriamo che la situazione attuale di un ristagno delle prestazioni medie in chiave italiana sia appunto una cosa temporanea e che venga risolta nel prossimo periodo. Nel mentre, non ci resta che aspettare e continuare ovviamente a fare il tifo per le nostre due eccellenze, che sono la Yaremchuk e la Epis. Spero che questo video vi sia stato utile per capire un po' la situazione in chiave italiana della maratona e mi raccomando se volete supportare un po' il canale, iscrivetevi, mettete mi piace al video, grazie mille se lo farete e buon divertimento agli allenamenti e buona fortuna alle gare. Ciao ciao!